ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo p italia oggi è martedì quindi andiamo avanti con la nostra storia della seconda guerra mondiale mese per mese e i due mesi che affronteremo oggi cioè settembre ottobre del 1940 sono molto molto importanti perché per la prima volta da un anno di guerra perché penso ormai sia ben chiaro a voi che ormai è già un anno che è iniziata la seconda guerra mondiale che è iniziata il primo settembre del 1939 ebbene dopo un anno di guerra per la prima volta le forze dell'asse conoscono delle vere e proprie sconfitte o meglio per la prima volta la germania conosce delle vere e proprie sconfitte se vi siete persi le puntate precedenti vi invito ad andare a rivedere trovate qui sotto in descrizione il link diretto alla playlist che ho creato per riunire tutte queste pillole dedicate alla seconda guerra mondiale in modo che sia un po più facile da seguire rispetto a semplici link diretti vi consiglio in particolare qualora non l'abbiate fatto di rivedere l'ultima perché riprenderemo la narrazione proprio da dove ci eravamo fermati e dando per scontato alcune cose che vi ho narrato la volta scorsa dove eravamo rimasti sì beh eravamo rimasti con la luce waffe impegnata a cercare di piegare gli inglesi dopo aver bombardato gli aeroporti dopo aver cercato di creare le basi per gettare una testa di ponte per per la wehrmacht in inghilterra la germania come avevo anticipato alla fine della scorsa puntata decise di cambiare strada lo stesso hitler dopo che berlino era stata bombardata alla fine di agosto del 1940 decise che il nuovo obiettivo sarebbe stato londra perché londra beh per due motivi e nessuno di questi due motivi a tutti gli effetti era era la vendetta il primo era che si credeva che distruggendo la principale città dell'alleato si potessero non solo indebolirlo dal punto di vista industriale distruggendo ovviamente anche le industrie ma si potesse spingere la popolazione inglese a richiedere la pace i propri governanti per evitare che ulteriori distruzioni potessero piombare sulle proprie città l'altra idea era che se si voleva distruggere la forza aerea inglese in particolare caccia che ovviamente si opponevano ai bombardamenti tedeschi l'idea migliore era quella di attirarli tutti in un sol punto laddove i caccia tedeschi avrebbero potuto attaccarli senza dividere le forze su più destinazioni con il risultato come era avvenuto fino a quel momento che i caccia facevano fatica a scortare tutti i bombardieri impegnati in realtà i bombardamenti su londra che iniziarono appunto in gran spolvero dal 7 di settembre del 1940 furono per l'aviazione tedesca un disastro questo perché londra era troppo lontana dalle basi tedesche non tanto per i bombardieri che ci arrivavano abbastanza agevolmente quanto invece per i caccia i messagmit bf 109 che erano avevano pochissima autonomia e non erano in grado di proteggere adeguatamente i bombardieri una volta arrivati su londra anzi addirittura la maggior parte dei caccia gli me 109 scusate prima ho sbagliato una volta arrivati su londra avevano non più di 10 minuti di autonomia un tempo troppo scarso per permettere di proteggere adeguatamente i bombardieri che tante volte si trovavano poi da soli a dover rientrare verso la germania con il risultato di essere attaccati e distrutti proprio dalla caccia inglese che li attendeva ora non pensiate che i bombardamenti tedeschi su londra che ebbero per circa un mese vissero di grandissima intensità non avessero provocato gravi danni all'inghilterra li provocarono e come la città venne quasi distrutta ci furono un grandissimo numero di vittime molti in inghilterra iniziarono seriamente a pensare che non vi fosse alcuna speranza di opporsi alla germania ma in realtà questi bombardamenti non sortirono per nulla al loro effetto non solo indebolirono infatti come vi ho appena detto la la luswaffe il la flotta aerea tedesca ma riuscirono ma permisero invece a quella inglese di rafforzarsi perché per bombardare londra i tedeschi smisero di bombardare gli aeroporti dell'inghilterra meridionale nonché le postazioni radar con il risultato che la raff riuscì a riorganizzarsi e dopo un mese di bombardamenti su londra era più forte rispetto a quando aveva incominciato insomma la germania perdeva tanti aerei la raff ne perdeva anch'essa ma ne perdeva in numero minore e benché londra fosse distrutta le basi tornavano a funzionare a pieno regime il risultato fu che dopo circa un mese di bombardamenti il 10 di ottobre del 1940 la raff annunciò di essere riuscita a distruggere in una sola giornata ben 160 aerei tedeschi la notizia come si scoprì successivamente era assolutamente facile in realtà ne erano stati distrutti 60 ma rimbalzò sostanzialmente sui giornali di tutto il mondo e probabilmente arrivò anche a hitler che in realtà aveva ben chiaro sotto gli occhi che la la luswaffe stava perdendo la guerra fino a quel momento hitler non aveva mai rinunciato alla speranza di invadere l'inghilterra l'operazione silo leone marino era stata più volte rimandata ogni volta di una settimana in settimana ma ogni volta si era pensato di poterla intraprendere non appena la caccia inglese fosse stata distrutta a metà di ottobre si decide però che l'operazione non si può più condurre ormai il tempo è peggiorato troppo oramai è difficile attraversare la manica anche per le navi oramai i rischi sono troppo grandi anche perché una volta sbarcati troverebbero un tempo pessimo che rallenterebbe le operazioni si decise così di rinviare l'operazione all'anno successivo e come tutti sapete in effetti l'operazione venne rinviata a mai più perché mai più si pensò di invadere l'inghilterra per tutto ottobre e vi anticipo anche nei mesi successivi continueranno però i bombardamenti sull'inghilterra che sostanzialmente non verrà mai lasciata in pace anche se lentamente appunto il rischio di invasione fu ben chiaro agli inglesi che fosse scomparso tra settembre ottobre ma a questo dedicherò una pillola apposita credo lunedì della prossima settimana tra settembre ottobre arrivò in inghilterra o meglio arrivò in belgio per bombardare l'inghilterra anche il cai cioè il corpo di spedizione italiano un piccolo gruppo di bombardieri e di caccia che fecero veramente una pessima pessima figura al fronte ma di questo ripeto ne parleremo in una pillola apposita molto probabilmente lunedì della prossima settimana insomma un'inghilterra che sembra raccogliere solo vittorie no perché l'inghilterra se raccoglie o almeno riesce a raccogliere vittorie in campo aeronavale non dimenticatevi nei mesi scorsi la vittoria contro gli italiani nel mediterraneo continua ad avere dei grossi problemi quando è il momento di sbarcare delle truppe in realtà l'inghilterra ovviamente in questo periodo non ha truppe a sufficienza per potersi per poter pensare di passare all'offensiva contro chi che sia anzi addirittura in africa gli italiani finalmente si decidono a passare all'offensiva e tra settembre ottobre occupano alcuni territori in particolare gradiente di sollum che dalla libia spingono verso l'egitto anche se ancora troppo presto per parlare di una vera e propria offensiva che come avevo detto né mussolini né graziani sembravano essere interessati a portare avanti no gli inglesi colgono invece una sconfitta in una zona molto particolare vi ricordate che vi ho raccontato che al momento della caduta della francia si era creato un gruppo chiamato francia libera sostanzialmente un gruppo di resistenza capitanato dal generale char de gaulle ebbene de gaulle dopo aver riunito compatrioti soprattutto soldati che erano riusciti a fuggire da ankerche e arrivare in inghilterra decise di organizzare uno sbarco nelle colonie francesi in particolare a dakar dove pensava di poter prendere il comando della colonia e da lì cercare di richiamare tutte le colonie francesi ad unirsi alla francia libera abbandonando ovviamente la francia di vichy quando però a fine settembre il 25 di settembre le truppe francesi giunsero a dakar ovviamente scortate da una grossa flotta inglese ad accoglierne vi erano alcune navi francesi alcune delle quali peraltro avevano erano scampate ad attacchi da parte della flotta inglese di cui abbiamo parlato il mese scorso una volta giunti davanti al porto di dakar dove pensavano di sbarcare accolti tra due ali di gente festante le truppe franco inglesi vennero invece accolte a cannonate nonostante l'intervento di una porta aerei nonostante uno scontro tra la corazzata francese le navi francesi che difendevano il porto e quelle inglesi dopo due giorni di scontri gli inglesi il 27 di settembre furono costretti a ritirarsi dopo peraltro aver subito molte perdite ci riproveranno di lì a qualche giorno ma era ormai ben chiaro che in realtà dopo l'operazione fatta a merce al kebir l'opinione pubblica delle colonie ma in generale l'opinione pubblica francese non fosse più così strettamente schierata a favore dell'inghilterra una cosa peraltro che char de gaulle aveva previsto appunto pochi mesi prima chiusa l'europa occidentale tempo di parlare dell'europa orientale in particolare qui non si combatterono scontri né per settembre né per ottobre del 1940 ma berlino in realtà sia berlino che roma andarono a cercare degli alleati il primo degli alleati era l'ungheria ungheria che da sempre era stata corteggiata da berlino anche se rimaneva su posizioni più vicine all'italia che già aveva beneficiato della protezione della germania quando durante il primo arbitrato di vienna aveva ottenuto parte dei territori della loro repubblica slovacca un'ungheria che nei primi giorni di settembre 3 di settembre del 1940 riuscì con il secondo arbitrato di vienna che venne tenuto peraltro da von ribetro pedaciano cioè ministri degli esteri di germania e italia riuscì ad ottenere dalla romania la transilvania ora la transilvania era un territorio che un tempo all'interno faceva parte dell'impero austro-ungarico era in realtà parte dell'ungheria ed era in realtà abitata da una forte minoranza ungherese nei territori che però a vienna si decise di concedere la lungheria vi era in realtà una maggioranza rumena tanto che gli ungheresi erano all'incirca il 40 per cento la debolezza della della romania costretta ovviamente sotto la minaccia in italiana e tedesca a cedere la transilvania venne colta anche da un'altra potenza dell'area la bulgaria di re boris terzo che pochi giorni dopo il 7 di settembre riuscì ad ottenere sempre dalla romania con il trattato di craiova tutta la zona sud della stessa la perdita di tutti questi territori la perdita di prestigio le proteste interne in seguito a quello che era successo portò all'abdicazione del re di romania che venne sostituito dal principe ereditario michele ma soprattutto portò al potere la cosiddetta guardia di ferro c'è un movimento di estrema destra nazionalsocialistico se vogliamo dire o comunque fascista comandato da antonesco che trasformò anche la romania in una dittatura di destra dittatura di destra che benché avesse appena ricperso del territorio proprio a causa della germania trovò in italia la sua protezione tanto che hitler proprio a ottobre del 1940 firmò un accordo inviando delle truppe proprio in romania sostanzialmente con un colpo di mano impossessandosi dei campi petroliferi di ploi esti uno dei principali campi petroliferi europei dell'epoca questo movimento all'interno dei balcani in un territorio che mussolini considerava di proprio controllo non venne ovviamente ben visto a roma e nonostante il 27 di settembre fosse stato firmato il patto tripartito che sostanzialmente metteva sullo stesso piano germania italia e giappone mettendo ben in chiaro che l'italia non fosse un partner uno junior partner rispetto alla germania ebbene nonostante questo accordo mussolini era deciso a sostanzialmente farla pagare a hitler o meglio fare una mossa politica obbligando hitler così come lui era stato costretto ad accettare che la romania venisse sostanzialmente occupata dalla germania obbligando a sua volta hitler a osservare un fatto compiuto ne avevamo parlato la volta scorsa l'italia da alcuni mesi stava infatti progettando alzando la tensione contro la grecia progettando proprio un'invasione della grecia stessa hitler e la germania più volte avevano dichiarato loro contrarietà un po perché metà xas che era dittatore di grecia era comunque vicino alle posizioni nazionalistiche un po perché non volevano un nuovo fronte mussolini aveva chiesto a badoglio quante divisioni gli servissero per poter occupare la grecia e badoglio aveva dichiarato che gliene servissero 20 numero veramente molto molto elevato e soprattutto che gli volessero almeno tre mesi di preparazione mussolini però che ripeto voleva restituire lo smacco subito decise che non vi era tempo non vi era tempo per far arrivare truppe le truppe richieste non vi era tempo di aspettare le preparazioni il 28 di ottobre mussolini da ordine a ciano di consigliare a metà xas alle 3 di notte alle 3 del mattino del 28 di ottobre 1940 un ultimatum in questo ultimatum sostanzialmente si chiede alla grecia che viene accusata di non essere di essere supposizioni filobritanniche di bloccare gli interessi italiani nell'area gli si chiede di cedere numerose basi in numerose isole e sostanzialmente di essere controllata dall'italia metà xas capì subito che quella non era un ultimatum quella era una formale dichiarazione di guerra anche perché le truppe italiane circa 105 mila uomini già stanziati in albania stavano iniziando a invadere il suo paese cominciando dall'epiro e dalla macedonia del nord insomma l'italia era entrata in guerra quello stesso giorno era previsto un incontro tra hitler e mussolini a firenze e si dice che hitler così come aveva desiderato mussolini fosse venuto sapere dell'attacco italiano alla grecia dai giornali senza che mussolini l'avesse minimamente interpellato prima nei giorni successivi così dissero i giornali italiani le truppe italiane erano avevano iniziato la loro marcia verso sud travolgendo le prime difese greche e facendosi strada verso il cuore del paese la realtà come molto spesso capita quando si parla di propaganda era ben diversa e già fin dal inizio delle operazioni le truppe italiane male equipaggiate in numero non sufficiente ma soprattutto costrette ad attaccare un territorio con pochi mezzi di trasporto e un territorio molto difficile perché montagnoso iniziarono ad avere gravissimi problemi ma di questo nella campagna di grecia di come andò questo primo volendo disastro italiano ne parleremo nella prossima puntata martedì prossimo bene con questo è tutto credo di avervi grossomodo narrato questi due mesi due mesi interlocutori che vedono la fine dell'inizio forza della guerra e l'inizio della seconda fase che vede più incentrata sul mediterraneo ci sono ancora tanti argomenti di cui parlare ci sono ancora tante puntate da dedicare a questa seconda guerra mondiale se volete seguirle tutte lasciate un mi piace iscrivetevi al canale andate qui sotto a vedervi la playlist io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti incredibili storie fantastiche che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere e se volete iniziare a curiosare qui intorno ce l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani con un'altra pillola che peraltro sarà dedicata a un film sulla seconda guerra mondiale ma lo vedrete domani ci vediamo martedì prossimo per andare avanti con la nostra storia alla prossima ciao ciao